O insensata cura de mortale, quanto son difettivi silogismi quei che ti fanno in basso batter l'ali. Chi dietro aiura e chi ad anforismi se ingiva e chi seguendo sacertozio e chi regnar per forza o per sofismi e chi rubare e chi civil negozio. Chi nel diletto della carne involto s'affaticava e chi si dava all'ozio quando da tutte queste cose sciolto con Beatrice m'era suso in cielo cotanto gloriosamente accolto. Poiché ciascuno fu tornato nello punto del cerchio in che avanti sera fermossi come a candellier candelo. E io sentì dentro a quella lumera che prima m'avea parlato sorridendo incominciar facendosi più mera. Così com'io del suo raggio resplendo si riguardando nella luce etterna li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. Tu dubbi e hai voler che si ricerna in si aperta e in si distesa lingua lo dicer mio cal tuo sentirsi sterna ove dinanzi dissi u ben si impingua e la u dissi non nacque il secondo e qui è uopo che ben si distingua. La provvedenza che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto pria che vada al fondo però che andasse ver lo suo diletto la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto in sé sicura e anche a lui più fida. Due principi ordinò in suo favore che quinci e quindi le fossero per guida. L'un fu tutto serafico in ardore l'altro per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore. De l'un dirò però che da men due si dice l'un pregiando qual comprende perché ad un fine fur l'opere sue. Intra tupino e l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo fertile costa d'alto monte pende onde Perugia sente freddo e caldo da Portasole e di rietro le piange per grave giogo nocera con Gualdo. Di questa costa laddovella frange più sua rattezza nacque al mondo un sole come fa questo talvolta di Gange però chi dessoloco fa parole non dica ascesi che direbbe corto ma oriente se proprio dir vuole non era ancora molto lontan dall'orto che il cominciò a far sentir la terra della sua gran virtute alcun conforto che per tal donna giovinetto in guerra del padre corse a cui come alla morte la porta del piacer nessun diserra ed inanzi alla sua spirital corte et coran patre le si fece unito poscia di di in di l'amò più forte questa privata del primo marito mille cent'anni e più dispetta e scura fino a costui si stette senza invito né valse udir che la trovò sicura con amiclate al suon della sua voce colui che a tutto il mondo fe paura né valse esser costante né feroce sicché dove Maria rimase giuso ella con Cristo pianse in sulla croce ma per chi non proceda troppo chiuso Francesco e povertà per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso la lor concordia e i lor lieti sembianti amore e maraviglia e dolce sguardo facieno esser cagion di pensier santi tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse e correndo li parve esser tardo o ignota ricchezza o ben ferace scalzasi egidio scalzasi silvestro dietro allo sposo si la sposa piace indi sen va quel padre e quel maestro con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro ne li gravò viltà di cuor le ciglia per esser fii di Pietro Bernardone ne per parer dispetto a maraviglia ma regalmente sua dura intenzione ad innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione poiché la gente poverella crebbe dietro a costui la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe di seconda corona redimita fu per onorio dall'eterno spiro la santa voglia desto archimandrita e poi che per la sete del martiro nella presenza del soldan superba predicò Cristo e gli altri che il seguiro e per trovare a conversione acerba troppo la gente e per non stare in d'arno redissia al frutto dell'italica erba nel crudo sasso intratevero e arno da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra due anni portarno quando a colui che ha tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo a frati suoi siccome a giuste rede raccomandò la donna sua più cara e comandò che lamassero a fede e del suo grembo l'anima preclara moversi volle tornando al suo regno e al suo corpo non volle altra para pensa oramai qual fu colui che degno collega fu a mantenere la barca di pietro in alto mar per dritto segno e questo fu il nostro patriarca perché qual segue lui come il comanda di scherner puoi che buone merce carca ma il suo peculio di nova vivanda è fatto ghiotto sicch'esser non puote che per diversi salti non si spanda e quanto le sue pecore remote e vagabunde più da esso vanno più tornano all'ovil di latte vote ben son di quelle che temono il danno e stringonsi al pastor ma son si poche che le cappe fornisce poco panno or se le mie parole non son fiocche se la tua udienza è stata attenta se ciò che detto alla mente revoche in parte fia la tua voglia contenta perché vedrai la pianta onde si scheggia e vedrai il corregger che argomenta u ben si impingua se non si vaneggia a Grazie a tutti